E allora ragazzi che partenza e che partita oggi del Milan Milan che aveva bisogno non necessariamente ma obbligatoriamente di una vittoria contro il club Brugge contro il club Brugge che comunque è un club, club Brugge vabbè, è una squadra che gioca a pallone è una squadra che tiene sempre gli stessi, è una squadra che quando vende compra sempre bene e quindi va di sé che era una squadra che tutto sommato fa un po' di fatica, un po' di problematica un po' di ansietta al Milan poteva metterglielo, soprattutto secondo me dopo che il Milan era partito con due sconfitte nelle prime due gare di Champions League, quest'anno ragazzi sapete c'è il format nuovo il formato nuovo ed ero molto curioso di vederlo, il Milan aveva perso 3-1 contro il Liverpool 1-0 contro il Leverkusen quindi oggi non aveva scuse e doveva vincere per forza tra l'altro il Brugge aveva più punti del Milan quindi era anche fondamentale vincere per questo ma poi ripeto la classifica è importante vederla ma non è importante vedere dove sono le altre secondo me non devi guardare, ci arriveranno tutte attaccate perché sono solo 8 partite quindi la classifica conta fino a un certo punto, forse la puoi vedere nelle ultime due giornate per vedere quanti punti devi fare matematicamente per arrivare lì ma non affronti sempre le stesse le altre non affrontano le affronti te e quindi sta cosa insomma un pochino cambia anche la visione di quello che è poi effettivamente il match in sé, quello che è il torneo in sé poi diciamo anche che il Brugge aveva vinto contro lo Sturm Graz e non è che avesse vinto chissà contro chi dall'altra parte appunto c'è un Milan che scende in campo con Magnan tra i pali come al solito difesa con Gabby e Tomori centrali quindi Pavlovic continua a non fare il titolare gioca da una parte Tevernandez anzi a sinistra e dall'altra Emerson Royal quindi centrocampo a due con Reinders e Fofana ma soprattutto rivediamo Loftuscik fare il titolare era un po' che non lo vedevamo fare il titolare nell'ultima partita proprio di questa avevo parlato cioè del fatto che Loftuscik stesse giocando discretamente poco se posso essere sincero entrava a partita in corso e giocava anche molto molto poco e invece questa volta gioca gioca dietro Morata quindi Morata non fa il trequartista ma fa la punta gioca Loftuscik dietro Morata e poi sulle due fasce Pulisic e Leao allora allora Milan che oggi gioca bene Milan che merita di vincere Milan che vince Milan che convince Milan che fa tre punti che era impossibile non fare se volevi se avessi voluto passare se avessi ma che cazzo sto dicendo vabbè se volevi passare il turno devi vincere per forza oggi mi sto in cespica non gliela faccio più va bene così detto questo il Milan nella sblocca si porta in avanti con il gol di Pulisic e ragazzi Pulisic ha fatto il gol olimpico Pulisic ha fatto il gol olimpico ha segnato direttamente da calcio d'angolo e vi posso dire in una partita e comunque sulla carta difficile ma non tanto difficile dal punto di vista dei valori in campo ma dal punto di vista della della mentalità della della testa del Milan che comunque vi perso le prime due quindi dovevi necessariamente portare a casa i tre punti uno dei migliori modi per sbloccarla era questo qua cioè vincere grazie a una magia la magia è quella di Pulisic la offre Pulisic calcio in porta tra l'altro mi fa sorridere perché non la tocca nessuno cioè non è che dice è stata una deviazione una piccola deviazione un no va direttamente in porta Mignoletto che ci ha fatto litigare non può nulla vantaggio del Milan e quello fa il 50 per cento dell'indirizzamento della gara l'altro 50 per cento lo fa Oniedica perché c'è un contrasto tra Oniedica e Reinders in un primo momento non è dato fallo a al al Bruges quindi fallo di Reinders vanno a rivederlo al VAR e capiscono che in realtà Oniedica ha rischiato veramente di sbragare Reinders di fargli un male cane cartellino rosso giustissimo dal mio punto di vista espulsione per Oniedica e il Bruges resta in 10 uomini ecco da quel momento in poi secondo me lì da quel momento lì in poi è finita proprio anche l'idea del del Bruges di potersela giocare e secondo me lì c'è stata anche un'idea di dire cazzo adesso cerchiamo di muoverci tanto che il Bruges nel secondo tempo fa due cambi però c'è una cosa che va detta però c'è una cosa che bisogna considerare ovvero che e qua subentrano anche forse un po' le scarse capacità del Milan ancora di saper gestire perché il Milan di Fonseca non è ancora una squadra talmente centrata da riuscire a gestire ecco il Milan si becca il pareggio del Bruges nel secondo tempo vi giuro che quando l'ho visto non ce potevo credere ho detto c'è ma scusa ma cazzo ma tu vai avanti col Bruges sei in Champions League devi vincere per forza giochi con un uomo in più ma perché ti porti addirittura a prendere gol cioè ma com'è possibile che ti pareggiano e invece ti pareggiano con tra l'altro due giocatori Vettlesan e Sabé che erano appena entrati tutti i due cambi che fa l'allenatore gol tra l'altro anche a livello di bellezza secondo me insomma l'hanno toccata un po' a tutti e il Bruges pareggia i conti il Milan si riporterà avanti sempre con Reinders al primo l'ha fatto Pulisic in realtà Reinders diventerà protagonista dopo ma qua voglio dirvi una cosa ovvero a parte che io credo la butto là poi magari qualcuno la penserà come me qualcun altro no io credo fortemente che se il Milan a giugno dovesse decidere di vendere Leao per una cifra importante tipo 100 milioni e comprarci un paio di giocatori due tre abbastanza validi non sarebbe una scelta così tanto sbagliata perché oggi secondo me per quanto Leao sia un ottimo calciatore molto forte molto valido e che fa la differenza per il Milan io credo che insomma si possa anche pensare di poterlo sacrificare e non è un caso che appunto Fonseca azzecca il cambio perché perché Fonseca toglie Leao mette dentro Okafor ed è proprio Okafor ragazzi che vola via sulla fascia mette palla al centro Sabbe non lo può prendere due del Bruges si incespigano uno con l'altro arriva Reinders calcia in porta gol e il Milan si porta ancora in avanti per quanto riguarda poi parliamo anche del 3 a 1 che chiude la partita poi arriva anche il 4 a 1 clamoroso di Camarda tra l'altro adesso ne parliamo ma quando quando volevo un attimo dire che poi dopo il gol esce Loftuscik per Ciuqueze ve posso dire Loftuscik bene ma non mi ha fatto impazzire pensavo che si riscattasse nel senso che dato quell'opportunità lì credevo che Loftuscik si mettesse un po' più in mostra invece secondo me ha fatto abbastanza fatica Reinders procura il rosso Reinders fa il gol del 2 a 1 Reinders fa anche il gol del 3 a 1 ragazzi cazzata di decuipè come cavolo si pronuncia che tra l'altro dà il pallone a Ciuqueze Ciuqueze mette dentro sto pallone dopo la sgroppata per Reinders gol doppietta personale tra l'altro anche qua voglio dirvi una cosa ovvero che guardate Fonseca come azzecca questo cambio cioè entra Okafor fa l'assist Okafor entra Ciuqueze fa l'assist Ciuqueze poi dall'in poi sul 3 a 1 in 11 contro 10 c'è anche un debutto storico ovvero quello di Camarda butti dentro Camarda io qua finalmente mi prendo le mie rivincite porca la vacca finalmente mi prendo le mie rivincite da iniziano che vi dico ma se Milan non ha la punta ma perché non fa giocare a Camarda immaciasi 10 anni immaciasi 10 anni immaciasi 10 anni ma santo iddio buttalo dentro e fallo giocare perché poi il gol lo fa certo è chiaro che poi si addirizzano determinate cose Poraccio a Camarda il gol poco dopo gli è stato anche annullato ma questo conta poi Poraccio tra l'altro gli è stato annullato il gol sarà tolto anche la maglietta per festeggiare e quindi porca la vacca gli hanno dato anche il cartellino giallo però quello ti ha dimostrato che se tu c'hai le palle di fare se tu c'hai le palle di volere se tu c'hai le palle di mettere in campo dei ragazzini che possono darti il fritto che possano farti bene al di là poi del fatto che Camarda fosse in fuorigioco o meno il gol te lo fanno perché non sono scarsi e per questo guardate Pisiglia la Roma falli giocare dagli possibilità mettili in campo fagli assaporare un pochino il terreno di gioco Camarda per me ripeto poi gol non gol il gol gliel'hanno tolto ma al di là di questo ma dagli l'opportunità di mettersi in mostra ma fallo giocare ma fallo crescere tra l'altro sul gol di Camarda tra l'altro il po' non arriva proprio da Reinders quindi mi fa ridere anche questa cosa ha fatto anche l'assist per Camarda giocatore totale Reinders mi dispiace giusto che si è tolto la maglia e poi il gol effettivamente non gli è stato dato in quel frangente lì però comunque ciò non toglie che se tu fai giocare determinati calciatori determinati calciatori ti portano a sognare in queste situazioni e soprattutto ti creano un giocatore a disposizione faccio un esempio oggi entra Camarda Camarda fa gol poi va bene gli viene tolto e va bene e si va avanti e Camarda continua a giocare fa recuperare tutto quanto ma l'idea che vi chiedo io è oggi voi pensate che il Milano nella prossima di campione possa metterlo Camarda non titolare magari ma a partita in corso io penso di sì io credo di sì poi magari non sarete d'accordo con me io credo di sì ecco facendo questo tu hai dato una possibilità a Camarda di diventare un giocatore di quelli nelle rotazioni quando tu crei un giocatore che entra nelle rotazioni gli dai la possibilità ti dai la possibilità di avere una rosa più lunga la roma faccio l'esempio con la roma perché è il mio terreno fertile sulla fascia c'ha abdullamid e vabbè sulla fascia c'ha non parliamo di abdullamid parliamo di sangare che c'ha 17 anni parliamo di samuel dal dalla parte opposta parliamo di pisilli che sta giocando in questo momento in mezzo al campo ora pisilli per fortuna sta giocando ma se questi giocatori tu non li fai mai giocare parlo di samuel dal parlo di di sangare non entreranno mai nelle rotazioni e non ci crederai mai a questi giocatori ed è per questo che vi dico cavolo credi in questi giocatori dagli quelle possibilità falli mettere in mostra perché ma basta mezza partita fatta bene per iniziare a valutarlo come un calciatore che può giocare titolare o che può entrare nelle rotazioni può allungarti la rosa oggi bravo Fonseca che butta dentro Camarda oggi vabbè oggi Fonseca l'ha vinta da solo nel cambio che faceva ragazzi era un gol però vi dico bravo Fonseca che gli ha dato possibilità perché se in futuro ci sarà bisogno di far giocare Camarda Camarda può giocare e lo dimostra oggi secondo me il fattore decisivo decisivo è che lo dimostra oggi e io qua passo e chiudo adesso ci andiamo a vedere la Juventus ci andiamo a vedere il Bologna stasera altra serata di Champions League fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimi mi piace buo ciao all'allene come sempre ci vediamo un prossimo video ciao